Un posto al sole, nuove anticipazioni, Marina è di nuovo in crisi per colpa di Lara. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse tra fine febbraio e inizio marzo 2023 su Rai 3. Rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla coppia composta da Marina e Roberto. I due, dopo aver ritrovato la serenità e la felicità di una volta, si ritroveranno a fare i conti con il ritorno in città di Lara Martinelli e Da quel momento in poi, nulla sarà più come prima per la coppia che anima le vicende dei vari protagonisti di Palazzo Paladini. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il rapporto tra Marina e Roberto verrà messo a dura prova in seguito al ritorno del tutto inaspettato di Lara Martinelli. L'ex compagna di Ferri metterà a piede a Napoli con un bambino al seguito, dopo un periodo di assenza. Con il suo rientro stabile nel capoluogo partenopeo, finirà per creare uno scossone nella vita dell'imprenditore e della sua attuale compagna. Nonostante Ferri consideri Lara come un capitolo chiuso della sua vita e sebbene abbia provato in tutti i modi a lasciarsi alle spalle quanto è successo tra di loro, si ritroverà per forza a dover fare i conti con la presenza della donna, la quale non passerà affatto inosservata. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Lara si presenterà proprio al matrimonio di Ferri. E tutto finirà per avere delle conseguenze non positive sulla stabilità di coppia di Marina e Roberto. Dopo che hanno scelto di convolare a nozze e di celebrare e festeggiare il loro sogno d'amore. Insomma, ci sarà un nuovo momento di difficoltà tra Marina e Roberto, i due si ritroveranno messi a durissima prova. Ferri proverà a prendere in mano le redini della situazione, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione della SOP. L'imprenditore proverà a rassicurare e rasserenare la sua amata, ma ciò non eviterà delle nuove difficoltà nel loro rapporto. La presenza di Lara Martinelli, la quale ha dimostrato più volte di essere una donna particolarmente astuta e pronta a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi, non renderà affatto tranquilla e serena Marina Giordano. Maggiori dettagli su questa storyline saranno chiariti comunque solo nelle puntate successive dello sceneggiato di Rai 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti.